Loredana Bertè ha un problema di salute, concerto cancellato. Cos'è successo? L'artista costretta ad annullare il concerto di domani sera a Capri, l'annuncio sui social Loredana Bertè non si è mai fermata dallo scorso festival di Sanremo in cui ha ottenuto un grande successo con la sua canzone pazza Difatti quest'ultima è stata impegnatissima sia in tv ricoprendo il ruolo di giurata The Voice Kids, Senior Regeneration che con il suo tour in tutta Italia E proprio a tal proposito si segnala che il suo staff qualche ora fa ha annunciato direttamente su Instagram che purtroppo il concerto previsto domani sera a Capri è stato annullato Loredana Bertè sabato 7 settembre purtroppo non riuscirà ad essere sul palco per il concerto di Capri Nuovo problema di salute per Loredana Bertè Successivamente lo staff che segue da vicino la giurata di The Voice Kids, sempre in questo intervento su Instagram, ha anche tenuto a precisare che il concerto a Capri è stato annullato a causa di un problema di salute Già il 31 agosto scorso ha accusato forti dolori all'addome aggravati dal forte caldo E infatti hanno voluto far sapere che l'artista, la quale è stata recentemente ospita a Belvedà Francesca Fagnani, ha faticato non poco a portare a termine il concerto a Mantova previsto in quella data L'artista era riuscita, seppur dovendosi sedere spesso, cosa mai successa prima, ad esibirsi, portando a termine il concerto con tenacia ma con grande fatica E una volta rientrata a Milano la giurata del talent show condotto da Antonella Clerici ha fatto i dovuti controlli scoprendo di avere una gastroduodenite acuta L'artista ha iniziato una cura per questo suo problema di salute In questo comunicato su Instagram è stato poi fatto presente che Loredana Bertè ha iniziato a fare delle cure che stanno funzionando, anche se purtroppo al momento non ha recuperato ancora la forza fisica necessaria per affrontare un concerto E infatti la dottoressa le ha prescritto riposo forzato per altri sette giorni Le prime cure hanno migliorato ma non risolto il quadro clinico, per questo la dottoressa curante oggi le ha prescritto riposo e terapia medica per altri sette giorni Lo staff della giurata di The Voice Kids ha inoltre voluto esprimere il proprio dispiacere per il fatto che la data a Capri è stata annullata, ma purtroppo non c'erano alternative Detto questo è stato anche rassicurato che la cantante terminerà il suo tour Ribelle Summer come previsto il 21 settembre prossimo a Terni A quanto punto non resta che farle i più sinceri auguri di pronta guai